Il clima mite e le politiche di contenimento dei consumi riducono i volumi di vendita di gas per riscaldamento, ma il gruppo A5, nato dalla fusione delle utilities delle province di Monza, Lecco, Como, Sondrio e Varese, consolida i propri risultati operativi e conferma l'impegno a generare valore sui territori di riferimento nel segno della sostenibilità. Il quadro emerge dal report sulla situazione economica al termine del terzo trimestre. Il margine operativo lordo risulta in afflessione rispetto al 2022, anno nel quale però è stato contabilizzato un provento non ricorrente di 15 milioni di euro, riferito a partite pregresse in ambito idrico. Il margine operativo netto si assesta a 18,4 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 41,8 milioni di euro, in crescita l'indebitamento finanziario che ammonta infine a 280,8 milioni di euro. Sui risultati pesa la riduzione dei volumi di gas venduti pari a 198,5 milioni di metri cubi, insensibile flessione rispetto allo stesso periodo del 2022. Un fenomeno che si verifica in relazione alla situazione climatica più mite e la dinamica dei clienti, ma anche in conseguenza degli interventi governativi a favore dell'attenzione dei consumi da un lato e del timore rispetto all'incaro bollette conseguente allo scenario commodities dall'altro. Sul fronte del comparto energia aumentano i clienti, ma diminuiscono i volumi venduti. In un contesto incerto, caratterizzato oltre che dal conflitto russo-ucraino, anche dall'inaspirsi della crisi fra Israel e Palestina, il gruppo A5, grazie alla diversificazione delle proprie attività, potrà mitigare molti dei possibili impatti del conflitto, beneficiando anche della capacità di resilienza e di gestione maturate nel corso degli anni, superando ogni momento critico.